Il tuo maestro dice che devi continuare gli studi, lì sarai bene, imparerai buono l'italiano e ti farei uomo. Tu che sei? Francesco Giuffrita? Non è me. Manca mio fratello e mio padre. Tu addò Peppino, non lo devi toccare. Me lo dovevi immaginare che eri tu. Ragazzi, fa bene! La guerra è finita. Come stai pure? Il mio zio si candida per diventare onorevole. Porterò finalmente la Sicilia nel futuro! Ma perché non me l'hai detto che venivi? Mio fratello. Piacere, Francesco. Maria. Maria. Caro padre, voglio dedicarmi alla politica. È bravo il mio sindaco! Ma che dici? Ma chi ti ha messo lì? Ricordati che hai un potere e quindi devi rendere conto a tanti. Se non ti conoscessi da tanti anni, direi che queste due parole mi suonerebbero come una minaccia. Duce! Ma tu pensi veramente che puoi voltare le spalle così al partito? Queste persone non si permettono di comandare a casa mia! Caro adorato figlio, se mi vuoi scrivere, fallo di domenica. Perché è di domenica che mi penserai. A presto! A presto! Grazie!